Amici e amici, come state? Spero tutto bene. La giornata di Juventus-Lech, appuntamento oggi alle 18 all'Allianz Stadium, con un imperativo categorico, tornare a vincere, perché nelle ultime quattro partite in campionato la Juventus ha rimediato tre sconfitte consecutive e un pareggio in quel di Bologna. Nel mese di aprile la Juve ha vinto solamente due partite, considerando tutte le competizioni, insomma un mese horror, bisogna ripartire, bisogna ripartire contro una squadra che ovviamente verrà a Torino per giocarsi la sua partita, che accaccia di punti salvezza, quindi non sarà semplice, ma d'altra parte per la Juventus stagione corrente, credo che di semplice non ci sia davvero nulla. Al campo, daremo spazio direttamente dall'esterno Stadium al triplice fischio, ora parliamo del nuovo direttore sportivo, perché nei giorni scorsi più volte vi ho detto quando mi è stato chiesto di Alessandro Del Piero o magari di altre figure, io ho sempre dato una risposta. Da quello che mi risulta, da ciò che ho verificato, nell'immediato, che quindi non significa che il quadro non possa ulteriormente mutare, ma nell'immediato il focus della Juve, quindi tra proprietà e figure in questo momento molto apicali, come Francesco Calvo e Maurizio Scanavino, la priorità consiste nel nominare un nuovo direttore sportivo. Quindi, nuovo direttore sportivo, non responsabilizzare una figura già presente nell'organigramma, ad esempio Giovanni Manna, che è il responsabile del progetto Next Gen, ma in generale è un collaboratore molto molto vicino a Federico Cherubini, nonché a Matteo Tognozzi, e che con l'inibizione di Cherubini ha portato avanti, vi ricorderete, negli ultimi giorni di mercato, qualche discorso legato alla prima squadra, con quel tentativo per Cambiaso, che tra l'altro è di proprietà della Juve. Ma, alla fine della fiera, questa volta, tutte le strade portano all'inserimento di un profilo esterno, quindi di una nuova figura. Ora, essendo un quadro ancora da decifrare molto bene, perché al 3 maggio parliamo comunque di gente che è sotto contratto, giuntoli, poi ci arriviamo che siano giuntoli ancora un anno di contratto con il Napoli, mentre Giovanni Rossi va in scadenza di contratto a giugno, ma per questi mesi, ovviamente fino al 30 giugno, è sotto contratto con il Sassuolo. D'altra parte mi spiegavano che Giovanni Rossi è solito rinnovare il contratto al termine di una stagione di un anno, quindi il fatto che vada in scadenza nell'ambiente vuol dire tutto e niente, però non vi ho citato due figure a caso. Cristiano Giuntoli, 51 anni, e Giovanni Rossi, 56 anni. Perché tra i nomi usciti in queste settimane ho trovato conferma sul fatto che su questi due profili ci siano stati decontatti. Quindi non sono in grado ancora di dirvi che sicuramente sia una lotta a due tra questi due nomi, ma se associamo questi due nomi, rispetto a molti altri, sono nomi che hanno una certa credibilità, perché evidentemente sono finiti nel mirino della Juve. Percorsi differenti, perché Giuntoli è pronto a laurearsi campione d'Italia con il Napoli, ha fatto un gran lavoro assieme al suo staff la scorsa estate, mettendo la porta, anche con scelte impopolari, diversi calciatori importanti, rinfrescando la rosa, abbassando i costi, e comunque il coraggio è stato premiato perché il Napoli ha letteralmente dominato questo campionato e giustamente, ribadisco, giustamente vincerà, conquisterà il tricolore. È uno che ha fatto molta gavetta a Giuntoli, tra il Carpi, insomma, sono anni, sono anni davvero che a Napoli, però è sempre stato, diciamo, bravo a lavorare sui talenti. Poi, se andiamo a vedere lo storico di Giuntoli, non è che ne abbia azzeccati il 100%, ma è impossibile, perché io credo che a questi livelli il bravo dirigente non è quello che non sbaglia, è quello che sbaglia meno. Cioè, non puoi pensare ogni anno di azzeccare tutti gli innesti e di azzeccare sempre tutto. È accaduto la scorsa estate, perché mi sembra che da questo punto di vista il Napoli, poi sfruttando anche la bravo di Luciano Spalletti, abbia avuto il coraggio di aprire un ciclo che può avere futuro, perché tutti gli innesti hanno una componente anagrafica che lasciano presagire che questa missione possa essere centrata, a meno che poi il Napoli non decida di vendere i suoi pezzi progiati, ma ne dubito, perché anche da questo punto di vista dell'Aurentis è sempre dimostrato di essere un osso molto duro. Lo ricordate, no? Cosa fece con Amsic, Cavani, Higuain, è andato via. Sì, ma con la Juve che ha pagato la closa di 90 milioni. Quindi il Napoli ha costruito le basi per vincere in questa stagione, ma anche per fare qualcosa di importante tra Italia e Europa, come è accaduto in questa annata, in futuro. E Giuntoli, giunto a 51 anni, è probabilmente nel picco massimo di maturità. Dove si gioca la partita? Credo, in termini di ambizione, proprio in una scelta personale, perché dopo tanti anni a Napoli Giuntoli può anche decidere di guardarsi attorno e magari di provare a fare qualcosa di differente in un'altra società. Lui ancora un anno di contratto. C'è chi dice che a Napoli siano pronti a offrirli un rinnovo, ritoccandogli anche l'ingaggio, ovviamente al rialzo. E vediamo, e vediamo. Però mi sembra che la Juve sia una spettatrice interessata e sta cercando di capire come finirà questo dialogo tra Giuntoli e il Napoli. Giovanni Rossi, che è il DS del Sassuolo perché la D è Giovanni Carnevali, è un dirigente che a Torino abbiamo già imparato a conoscere, soprattutto io quando ho avuto modo di seguire in quegli anni, facendo i miei primi passi nel mondo giornalistico, Rossi alla Juve, che ha ricoperto l'incarico di responsabile del settore giovanile e direttore sportivo delle squadre giovanili. Lo ha fatto per, credo, tre anni. Adesso vado a memoria. E aveva svolto un buon lavoro. Poi è tornato al Sassuolo, poi è passato al Cagliari e lì non è andata benissimo ed è rientrato al Sassuolo. Diciamo che Giovanni Rossi è una figura che un po' più viene associata a Max Allegri perché i due hanno rapporti dai tempi dell'Aglianese, si stimano e quindi probabilmente no. Questo nome viene visto come magari un entikit tracciato da Allegri. Però io qua credo che su una cosa non si scappi. Per me il direttore sportivo della Juve non verrà scelto come giusto che sia dall'allenatore, verrà scelto dalla proprietà, seguendo poi anche i pareri, come dicevamo prima, di Calvo e Scanavino perché un direttore sportivo non si sceglie in base alle esigenze del tecnico, bensì alle mosse che deve fare il club, a un certo tipo di progetto che deve sviluppare il club. E quindi qua voglio essere molto chiaro, il direttore sportivo per me viene scelto dalla società, non dall'allenatore, come sacrosanto che sia. Vediamo se magari ci saranno altri nomi che in questo momento non riusciamo a intercettare e che magari cattureranno l'attenzione mediatica, però mi sembra che se mettiamo in questa lista Giuntoli e Rossi non tiriamo a indovinare, semplicemente facciamo un lavoro giornalistico e semplicemente troviamo delle conferme sul fatto che all'interno di una lista siano presenti anche questi due nomi. Scrivetevi nei commenti cosa ne pensate, su chi puntereste, poi magari approfondiamo un pochettino perché voi sapete perfettamente che ora quando parliamo magari del lavoro del direttore sportivo, dietro c'è un mondo, c'è lo scouting manager, c'è il vice direttore sportivo, i collaboratori, quindi molte volte fanno bella figura i direttori sportivi che sono quelli più sovraesposti, ma magari dietro la bravura è stata degli altri e che magari potrebbero rimanere dove sono già ora. Faccio un esempio, si parla tanto di Micheli che è questo responsabile scouting del Napoli che ha fatto un gran lavoro, però questa sarebbe già una figura che non si muoverebbe da Napoli in quanto profondamente legata a Aurelio De Laurentiis, quindi bisogna capire bene su chi puntare e quale squadra costruirgli attorno, perché comunque la Juve a livello di scouting per esempio negli ultimi anni ha fatto un lavoro mostruoso. Se quotidianamente affrontiamo i problemi legati alla prima squadra, sullo scouting, sui talenti, sul settore giovanile, è una Juventus così competitiva, non la vedavamo da tantissimo tempo, tant'è che stanno arrivando tanti giocatori bravi e talentuosi, impentastabile in prima squadra, quindi il lavoro di Matteo Tognozzi, Giovanni Manna, di Scaglia, dei vari allenatori tecnici, delle varie attività di base, le under, insomma, la Juve ha fatto un gran lavoro che non mi ha disperso, bensì impreziosito con un tassello dall'esterno che arriverà e che dovrà rendere questo management a livello di aria sport ancora più forte. Però a poveriggio vi do appuntamento per parlare su quanto già la Juventus sia riuscita a costruire e chi sono stati gli artefici poi di questi ottimi risultati, a livello ovviamente di talenti del settore giovanile.